Con la consegna dei distintivi, le tessere di riconoscimento e l'auto di servizio, ha preso in via ufficialmente il nuovo nucleo di vigilanza ambientale della Polizia Locale dell'Unione Comune Garfagnana. Tre le guardie volontarie che saranno impegnate nel servizio. Con l'attivazione delle guardie volontarie ambientali si ampia la gamma dei servizi che l'Unione Comune Garfagnana rende al territorio. È un servizio importante che sarà sviluppato nell'ambito della Polizia Municipale e consente una tutela, valorizzazione e protezione del sistema ambientale locale. La consegna si è svolta nella sede della Protezione Civile a Piano Pieve, dove il Presidente dell'Unione, Nicola Poli, ha salutato ad uno ad uno i volontari consegnando loro il tesserino di riconoscimento. Il nuovo servizio attua la disposizione statutaria che prevede la partecipazione alla salvaguardia dei territori, la valorizzazione ambientale, la promozione delle attività di programmazione e di tutela ambientale, la valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali e la tutela delle riserve naturali. Gireremo sull'ambiente, su tutte quelle attività, in particolar modo anche per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, che è un'attività veramente indegorosa, che colpisce anche il nostro territorio. Dopo la parte burocratica presso la piazzola di atterraggio dell'elicottero regionale, il Presidente dell'Unione dei Comuni ha consegnato le chiavi dell'auto messa a disposizione del nuovo nucleo, una Fiat Panda 4x4, un mezzo davvero perfetto per operare su questo territorio.